Ciao amici! Voi mi vedete ogni tanto nei video e nelle foto, ma questa volta mi presento, perché il protagonista di questo video sono io. Io sono Gordon e sono l'amico peloso di A Tu Per Tu con Marilu. Ora sediamoci, soltanto perché A Tu Per Tu con Marilu vuole che batta il 5, facciamoglielo, diamogli anche la zampetta così lei è felice. Ma in realtà lo scopo principale è che io ho fame. E in questa casa sapete cosa faccio? Oltre a mangiare, sporco le vetrate di A Tu Per Tu. Ecco qui come le riduco, con il naso, il mio musetto, ogni giorno. Per quanto riguarda la mia razza, si dice che sono un cane da compagnia, ma soprattutto da caccia e da guardia. E come poter non fare guardia a questa casa? Ovviamente A Tu Per Tu con Marilu impazziva in passato, con detergenti, con stracci, risciacqui, asciugature e infine alcol. Da quando però collabora con PRM, finalmente ha trovato la sua pace e io sono finalmente felice di poterle sporcare ogni giorno questa vetrata. Lei utilizza soltanto due panni, uno in microfibra Mondial, l'altro per l'asciugatura Crystal, quello celeste. Bene ragazzi, un bacio da me a Tu Per Tu e il mio giardino fantastico. Se anche tu sei disperata come lo era la mia padroncina, scrivile perché ti darà informazioni.